vabbè il giorno di imparerò a chiedere questi cazzo di rubinassi dell'acqua in casa mia madre ciao bellini che fai sto cucinando ciao ciao amore ciao alfred vivi di pasta sì sì sono una mangia pasta a livelli assurdi penso cioè poche persone mi battano ciao sotta ciao steven no raga faccio le mazzelune al salmone al burro cioè col burro ciao clinton faccio un pochino ma secondo me tua madre lo fa non lo so prova a chiedere ciao simu ciao visio grazie grazie yes niente pasta al pesto oggi è da un po' che non la mangio eh la pasta al pesto ciao galletta capo ciao ciao clinton ciao clinton ciao emi fai un cuore che belle lunghe che hai grazie lo so però ve le farò vedere meglio appena vabbè quando avrò l'alimento direi che l'acqua sto già bollendo eh chi ti fate una chi ti fate i mondiali o che cazzo è sì mondiale chi ti fate a genzina marocco 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 anche io marocco 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 tu si che capisci ma raga minchia cioè quelle squadre vanno sempre cioè sono sempre lì capito fai la c'ho tutto inizio grazie francia no 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 che francia Intipatici francesi Non mi piacciono Non mi stanno simpatici francesi Belli eh Ma finisce là Ma è la Marocco Ci sarebbe anche l'Olanda Ciao Domi Non sto guardando tanto Non sto proprio seguendo il calcio Com'è con calma Madonna quanta fretta Questa pentola che bolle Cioè madonna Sta a perdere l'Olanda Sta perdendo l'Olanda Ah ok dai grande Va bene ok Non lo sapevo Mi metti su R1 Non lo vogliamo di guardare la partita Sta perdendo quanto E quanto Sei molto bella Grazie Grazie mille Vabbè raga li faccio tutti C'è cosa devo fare Li faccio tutti Poi fa niente Ciao Secondo te io mi faccio i capelli blu 1-0 Contro Contro l'Argentina Ah vabbè dai Piazza il cazzo Come stasera sei una buonazza Ma mi devo ancora preparare Cioè Sono in giro da stamattina Cioè tu eras in giro da settimane E oggi sono venuta qua a casa E stasera dormirò a casa mia L'Argentina Ok che è capito Che vuoi avere le medie Tutti dagli otto in su Alle medie Allora Acqua Placati perché Mi fai paura Non capisci un cazzo del calcio Guarda Sinceramente Qualcosa capisco Sono abbastanza sveglia Comunque Potete anche Non pensare Ma Sembro veramente Una bellissima persona Grazie Ciao amore Stasera faccio Un salto al Tokyo Ci sai Sei mia moglie Che è morto Ah vai Ok La schiampa E che hai fatto il filler Seguo la pagina Cioè Se andate a vedere Nei miei seguiti Non seguo Tante cliniche Vi esce La clinica Da qui sono andata Decisa Sì ma esageriamo Minchia Già 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 così No Non ancora Non ha buttati In gioco Si già escono Dalla Italiana Cosa Gaia bianchi Te amo Sei strabella Grazie Ma stasera Non vado Relax Ah ok Ma amo Non è che mi sono dimenticata Che c'è Stasettimana Amo Non esco Non esco Sono rilassata Non ho voglia di Andare a far ballare Anche perché tanto Non posso bere Amo Posso bere un cazzo Allora vabbè Mi piace Vengo a ballare Amo Faccio i tavoli I bottini Ma non bevo Capito Cazzo Ma fa un culo Raga Io ho capito Con gli anni Che le cose belle Le cose che ti rendono Che dici Non vanno dette Perché La gente Lancia le macumbe I malocchi La gente È invidiosa E quindi La mia vita Non è un intrattenimento Per la vita Delle altre persone Quindi Cazzo mia Mi godo La vita E le persone Che sono a fianco A me Senza mettere Storie E fare Non c'è che un cazzo Cagami Sono la migliore Grazie Che ne pensi Tiago e Sofie Sono felice Sono felice Per loro Siamo tutti bene Ragazzi C'è proprio serenità Nell'aria Sono felice 8 ore Vi faccio sapere Ok Non guardi L'argentino No 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 Non voglio direi che c'è una persona dolce allora diciamo che non mi piace dolce sì nei modi di fare tutto non sono una persona affettuosa però sì sono dolce dai sì sono dolce sì sono una persona dolce beh raga io vi saluto vorrei avere la mia privacy mentre mangio no più che altro voglio iniziare un film una serie così voglio fare qualcosa film nuovi serie nuove per me è tutto mannoia ti innamoreresti di un fan ragazza non lo so c'è tutto nella vita tutto è possibile nel senso però è difficile conoscere persone nuove per me capito cioè come faccio a conoscere persone nuove se tanto quanto vuoi che ci parli cinque minuti e basta cioè non do neanche quella confidenza ma per tutto un insieme di cose non perché me la tiro cioè per un insieme di cose il fatto è che cioè non mi interessa ciao è fantastica sono in diretta non dite stronzate non dite cose strane eh? no boh magari vi faccio qualche domanda inappropriata ce l'avevo tre o quattro anni fa il taglio sopracciglio due tagli a sopracciglio di qua tu mi hai detto torniamo sera tardi eh invece mi hai fatto fare la pasta da sola guarda come sto mangiando con la compagnia dei miei amici follower mamma quali erano le mie unghie? si io sono come fai a rifare così lunghe? ma who are you? perché le hai rifare così lunghe? oh come fai a rifare sulla tutina ad allacciartela con quelle unghie lì? non ce la fai mica saluta sono in live ho detto prima di entrare sono in live comunque ce la faccio anche ad allacciarmi i pantaloni riesco però guarda che belle comunque è proprio cioè è di risale beh e vi saluto state delirando nei commenti ciao un bacio non ho chiuso la diretta